Marvel Spider-Man 2 è il sequel di Spider-Man e Miles Morales, sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Sarà una delle esclusive di punta della PlayStation 5 e sono stati molti i dettagli svelati sul nuovo mondo del supereroe più amato della storia dei fumetti. Abbiamo preparato per voi una selezione di 18 cose da sapere prima di giocare a Spider-Man 2 per far chiarezza su ogni possibile dubbio. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochiitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta e tutte le novità su Spider-Man 2. Buona visione! Marvel Spider-Man 2 riprende da dove la storia si era conclusa. Gli Spider-Man, Peter e Miles, entrano in un nuovo capitolo della loro vita, mentre iniziano a trovare un equilibrio tra le loro responsabilità come protettori della città di New York e la vita privata. Ritorna in città anche il miglior amico di Peter, Harry Osborn, figlio del magnate e genio Norman Osborn, e apprendiamo che Harry è apparentemente guarito da una grave malattia grazie al simbionte. Il rapporto tra i nostri eroi è messo a dura prova dall'arrivo del nuovo supercriminale, Sergei Kramivov, conosciuto come Kraven il Cacciatore. Si tratta di un uomo spietato, che trova soddisfazione nel cacciare prede feroci nel loro ambiente naturale per dimostrare di essere il più letale dei superpredatori. Purtroppo per lui ha avuto un pessimo tempismo perché un certo simbionte sembra essersi legato a Peter, rendendolo più violento e aggressivo. Tuttavia Kraven non sarà l'unico Cacciatore in agguato, come vedremo tra poco. Vediamo i personaggi che incontreremo durante l'avventura. Peter Parker è l'iconico alter ego di Spider-Man, il volto più famoso sotto il costume del supereroe e la perfetta rappresentazione di come un eroe dovrebbe essere. Anche Miles Morales incarna tutti i pregi di un eroe degno di questo nome e segue le orme di Peter. Mary Jane Watson è il principale interesse amoroso di Peter Parker, che qui veste i panni dell'intrepida reporter a caccia di scoop. Black Cat è un'astuta ladra che si è trovata più volte sulla strada dell'arrampicamuri. Dietro il volto di Lizard si cela è il dottor Curtis Kurt Connor, geniale scienziato che ha perso il controllo di una delle sue ricerche. Kraven è il principale antagonista, il cui obiettivo è quello di battere Spider-Man per dimostrarsi il più grande cacciatore del mondo. Harry Osborn è il miglior amico di Peter e da quello che ci è stato mostrato sembra si legherà a Venom. A proposito di quest'ultimo, merita decisamente un approfondimento per sé. Venom nasce dall'unione di un misterioso simbionte alieno e dal reporter Eddie Brock, creato da David Michelini e Todd McFarlane, dopo che la creatura si è separata da Spider-Man. I simbionti sono una razza immaginaria di parassiti amorfi extraterrestri che si legano a un ospite offrendo incredibili capacità, ma consumandolo completamente. Al contrario degli altri, questo è un simbionte atipico che preferisce legarsi al suo ospite consumando solo il necessario per vivere. Si unisce a Brock accumunato dall'odio per Spider-Man. Dopo essersi uniti, non solo il simbionte ha fornito una serie di capacità uniche al suo ospite, ma lo ha curato anche da un brutto male dal quale era impossibile salvarsi. Qui non avremo a che fare con le vere origini di Venom, ma con quelle riscritte di recente dalla Marvel. Da quello che abbiamo visto nei trailer, sarà Harry a legarsi col simbionte e divenire Venom. Proprio come succede nella serie animata del 2012 Ultimate Spider-Man, o almeno è ciò che Sony ha lasciato intuire dalle informazioni condivise. Non escludiamo possa essere un modo per depistare i fan dalla trama del videogioco, ma non vediamo l'ora di scoprirlo giocando. Gli sviluppatori non puntano ad una lunga durata sull'80-100 ore. Piuttosto è stato ribadito come fosse fondamentale dare ai fan un gioco dove vivere momenti unici per un'esperienza di gioco indimenticabile. In un'intervista è stato detto che la longevità di Marvel Spider-Man 2 è sostanzialmente la medesima del primo capitolo. Possiamo quindi considerare circa 17 ore per la sola storia principale, 25 completando svariate attività e poco più di 30 ore per i completisti. Sia Peter che Miles vestiranno i panni dell'Uomo Ragno, ma con una serie di abilità diverse. Nel corso dell'avventura sarà possibile intercambiare i nostri due eroi in tempo reale, senza caricamenti e con scambi così rapidi da regalarci nuovi spunti per gli scontri. I loro due stili di lotta si intrecciano perfettamente, ma dispongono anche di alcune capacità simili. Una delle nuove caratteristiche condivise mostrano i nostri eroi planare con l'aggiunta di tessuti resistenti e leggeri ai loro costumi, che li trasformano in tute alari. Sfrecciano per la metropoli con estrema maestria e ci mostrano inseguimenti ancora più veloci e adrenalinici. Anche gli scontri sono molto più caratterizzati. Ricordiamo che comunque Spider-Man 2 rimane un gioco interamente single player. Il bello del gameplay di Marvel's Spider-Man 2 è anche legato alla possibilità di volteggiare tra i palazzi di una metropoli viva e frenetica, resa ancora più bella grazie alle migliorie grafiche. Il nuovo titolo esplorerà diverse località di New York City, oltre a Manhattan. La mappa sarà grande quasi il doppio di quella del primo capitolo. Sarà infatti possibile volteggiare tra i grattacieli di Brooklyn, visitare Coney Island e Times Square, ma anche fare una capatina all'Avengers Tower o a The Raft, la prigione per i criminali dotati di superpoteri che si trova nell'East River vicino all'isola di Riker. Fate attenzione quando esplorate la città, perché questo nuovo capitolo ha introdotto i danni da caduta. Per fortuna potete scegliere di attivarli o no nelle opzioni. L'esplorazione di una città più grande impone anche tempi di spostamenti più lunghi. Potete accorciare i tempi grazie all'abilità Ali di Ragnatela, che vi permetterà di planare tra un salto e l'altro, come vi abbiamo detto prima, ma potrebbe non bastare. Per questo motivo nel corso dello Stay of Play del 14 settembre è stata presentata la meccanica del viaggio rapido, presente anche in questo nuovo capitolo della serie. Dopo aver visitato una determinata area e interagito con un punto specifico, potrete teletrasportarvi direttamente lì. Miles conserva tutte le sue abilità uniche, come l'invisibilità mimetica e il suo veleno. Queste abilità sono state approfondite in modo eccezionale nei film di animazione di Sony, il cui secondo capitolo, Spider-Man Across the Spider-Verse, è uscito da poco. Il sistema di concentrazione basato su diversi indicatori ritorna dal primo gioco, il che significa che il parametro bioelectric di Miles del titolo spin-off è stato integrato nell'indicatore di potenza basato su L1, insieme all'indicatore di potenza di Peter. Rispetto al suo mentore, Miles mantiene il suo stile di combattimento ed è protagonista di alcune sessioni stealth, dove mette fuori combattimento diversi nemici armati senza farsi vedere. Normalmente, Peter vestirà una versione tecnologica del suo classico costume, equipaggiato con zampe meccaniche simili a quelle viste per la prima volta nel costume della miniserie a fumetti di Civil War, ma poi si unirà al simbionte vestendo i panni di Black Spider-Man. L'Unione gli conferirà capacità eccezionali che miglioreranno notevolmente la sua capacità di combattimento e gli regaleranno mosse capaci di sconfiggere i nemici contemporaneamente. Il suo stile di combattimento è nettamente più violento e aggressivo rispetto a ciò che abbiamo visto in Marvel Spider-Man. Pare che l'Unione con il simbionte lo renda inarrestabile. Ci chiediamo se nell'avanzare dell'avventura si incontreranno nemici con armi soniche o di fuoco per metterlo in difficoltà. In questa versione Peter è molto più forte, può utilizzare tentacoli alieni per afferrare i nemici, scagliarli via, difendersi o caricarli in massa travolgendoli. Nel prossimo punto vediamo invece tutti i costumi disponibili. Riguardo i costumi potete trovarne 65 provenienti da fumetti e film più le varianti, con cui avete oltre 200 modi per vestirsi in modo creativo. Potete sbloccarli man mano che completerete le varie attività del gioco. Va detto però che 10 costumi saranno ottenibili solamente acquistando la Deluxe Edition, ma ne parleremo verso fine video. A schermo vi lasciamo la lista dei costumi di Peter Parker e Miles Morales che attualmente conosciamo. Tutte le modalità grafiche di prestazioni e performance dell'esclusiva PS5 saranno dotate di ray tracing. Se non conoscete bene questa tecnologia vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul sito. Il direttore marketing di Insognac, James Stevenson, ha confermato che l'impostazione sarà attivabile con ogni framerate relativo alla modalità scelta, ovvero 30, 40 e 60 fps. Queste tre saranno quindi le diverse modalità grafiche presenti. Il director of core technology di Insognac, Mike Fitzgerald, ha svelato che potremmo assaporare l'audio 3D grazie a PS5 e non è tutto. Uno sviluppatore ha anche confermato il supporto del Dolby Atomos. Ovviamente il DualSense garantirà il feedback aptico che sentiremo particolarmente quando il simbionte inizierà a dimenarsi e sotto i colpi di lì. A rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente saranno anche i grilletti adattivi, che si attiveranno ad esempio quando dovrete interagire con i tentacoli del simbionte per alcuni minigiochi. Come già detto poi, l'SSD proprietario di PS5 garantirà un'immersione totale a New York senza tempi di caricamento, oltre ad uno scambio istantaneo tra un protagonista e l'altro. Numerose saranno le opzioni di accessibilità disponibili in Marvel Spider-Man 2. Prima di tutto sarà possibile regolare il grado di sfida, influenzando tre aspetti legati ai nemici, ovvero punti vita, danni e grado di attenzione. Troviamo il ritorno dell'inseguimento assistito, visto per la prima volta nello spin-off dedicato a Miles Morales, che ridurrà la velocità massima dei bersagli per ampliare la finestra temporale dell'inseguimento prima della fuga. Vi basterà premere R3 per attivarla mentre si punta la visuale sul bersaglio. Non mancheranno le funzionalità di autocompletamento dei quick time event pensate per ridurre l'affaticamento muscolare. Infine si potranno aggiungere scelte rapide sul controller, che permetteranno di assegnare funzionalità particolari al pulsante destro o sinistro del pad e ridurre la velocità di gioco, che permette di abbassare la velocità del 70, 50 o 30% rispetto al normale. Per concludere troviamo le descrizioni audio, che aggiungono al contesto visivo una voce narrante che descrive filmati e perfino quick time event, un lettore a schermo per la descrizione dell'intera interfaccia e le didascalie. Come è accaduto per il primo capitolo e per lo spin-off Mice Morales, anche Spider-Man 2 sarà in italiano ed anche doppiato nella nostra link. Sentiremo nuovamente le voci di Jacopo Calatroni, Spider-Man, Gianandrea Mouillat e Katia Sorrentino, Mary Jane, tutti i doppiatori che abbiamo già intervistato in passato e quindi vi consigliamo di recuperare le rispettive interviste. Se vi state chiedendo quanto spazio possa occupare il gioco, parliamo di 98 giga su disco. Se avete una connessione lenta non preoccupatevi, perché il pre-download partirà una settimana prima del lancio. Il titolo potrà essere scaricato a partire dal 13 ottobre 2023 alle ore 15. Sarà possibile acquistare il titolo in diverse edizioni che potete già preordinare sullo store PlayStation. Siete ancora in tempo per preordinare il gioco, per ottenere alcuni vantaggi esclusivi che potete vedere a schermo, tra cui due costumi e tre varianti ciascuno. Tornando alle edizioni, quella standard contiene solo il gioco al prezzo di 79,99€, mentre la Deluxe Edition contiene bonus aggiuntivi per 89,99€, tra cui lo sblocco di 10 costumi esclusivi, 5 per Peter e 5 per Miles Morales, che non possono essere ottenuti in altro modo, almeno al lancio. Trovate a schermo anche la lista di questi costumi esclusivi. Infine, vi è una corposa Collector Edition da 249,99€, ormai praticamente esaurita, che include ulteriori bonus ed una statua da 48 cm di Spider-Man e Venom. Marvel Spider-Man 2 arriverà il 20 ottobre 2023 per PlayStation 5. Può essere acquistato insieme a un bundle con una console PlayStation 5 dedicata. Assicuratevi dunque di avere l'ultima console Sony, perché non sarà disponibile su PS4. Una versione PC è presumibilmente in sviluppo, visto l'approdo degli altri due capitoli sul computer con l'edizione rimasterizzata. Al momento, tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli. Per volontà di Sony, Spider-Man 2 è stato concepito come un'esclusiva senza compromessi, ma facilmente lo vedremo su PC nel giro di un anno. Anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione. Lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Spider-Man 2. Un saluto e alla prossima! Grazie a tutti!